Ora vediamo a tutti questa macchina che non è stata registrata, che non è leggetto, ma è una cosa che non è leggetto, che non è leggetto, che non è leggetto, che non è leggetto, che non è leggetto. Bene, ma questa è leggetto qui non è leggetto, ma era leggetto, non è leggetto, ma è leggetto, non è leggetto che non è leggetto. questo apporto del reto di un tipo di lavoro, perché il fatto che sia un progetto che non mi ha già fatto un progetto di un progetto. Quindi, è sempre che già viro in quel processo, perché non mi ha dato un progetto, ma che si tratta di un progetto di noi, ma che si non si tratta di un progetto che non ci si tratta di un progetto. Ma ci sono tutti i principi, ma che sono sempre più difficili, ma ci sono sempre più difficili, è che si fa tanto per una parte del problema, e quindi noi devono fare mentre questo sistema è importante, però anche in questa modo da una parte e da un grande problema questo trutto un po' di appartamento e questo sistema è il nostro ajuda per quella parte. come stava attraverso il lavoro che deve restare l'idea per un tempo e attraverso il progetto di discurso e il testato, per esempio, che deve restare l'administrazione pubblicare, che deve restare l'administrazione pubblicare, che deve restare l'idea per un'idea per questa parte non sia o meno che ha trovato la capacità di pubblicare, a questa parte non sia o meno importante, ma questa è un'idea che deve restare, ci sono state che invece si sono attraverso le corrette, ora è una scena, e invece sono state parlando, ma non è un'idea che si è sentita. E ci sono gli altri consi che in casa, e poi bisogna uscire un'esercio pubblico, non è un'esercizio pubblico, non è un'esercizio pubblico, perché il argomento di aver sentito il kindio che trovano tu più esperienza, e quindi ancora più agli aspettati, e arrivati a diverse appartiene, e hanno un'esercizio pubblico di avere tutti i嗆i, e quindi ci sono le diretti sono stati, ci sono quanti, adatto il silenzio di qualche volta. E poiggota il giocatore, ma che è il suo cage, ma che è il tuo caso, tutto come il fatto, è in tr Geoff è il delinezione, sono tutti dentro il mio Silasquino, si è il partito di tutti i nostri prodotti, ma sono tutte quelle lezioni che vedi, ma io sono i miei clienti cosi, e poi ci sono le saluzioni. E poi? Ecco, le fag le saluzioni, Grazie. è così. Sì, sono sempre sempre in questione che ho vissuto bene, e poi, sono sempre innamorato, non dico, non di bere capo del русlio, ma che non c'è함o, ma che non c'è un profonto, quindi non c'è nessun condimento, ma che non c'è anche il loro posto, non c'è un fondamento, ma che non c'è ancora un momento in cui ho vittato. Il nostro corso gratuito, perché è stato un paio di peridogia e la propria ci sono, e poi, diciamo, sempre quante volte si parla ovviamente, ma anche perché, a questi, in cui avevamo già dato anche di soluzione sia, e non c'è stato il resto, perché, come lì, non ho altri problemi, e poi sento già ovviamente un progetto che ha provato in mezzo e poi non potesse realizzare il progetto della comprensa e che forse quindi di questo modo probabilmente non ci sono un'assessore veterale in verità ma ci sono ancora un progetto che non ci sono un'assessore, non ci sono un'assessore, non ci sono un progetto perché non ci sono un progetto che non ci sono un progetto che ci sono un progetto perché a parte di tutela ma anche se non ha un'arbitata o non è una situazione, ma che è la differenza della relazione, ma anche questa situazione, ma anche oggi è tutto il progetto che si ritorna la combinazione della competenza francese a tutti, a tutti i maier, in generale ma è un problema che è sempre più importante, perché la settimana è molto importante, perché non si tratta di un problema, ma non si tratta di più di un problema, si accogliono il problema, ma non si tratta di più, non si tratta di più di più di più, e quindi, come c'è un settore, in cui noi siamo arrivati, che non sono spaventato, la situazione di risulti che il risultato è il risultato, che è il risultato che gli effetti non sono stati specifici, ma non è un problema, non è un problema con il risultato che non è successo, ma non è un problema, perché il risultato che non lo soggiorno è il risultato, perché c'è un po' di più, il nostro paese, è un po' di più, è un po' di più, è un po' di più, il nostro paese, è un po' di più. questa scuola. Io vedo tutto ancora che questa scuola è ancora di pensare che è la politica di parà che ha effettuato la politica e quindi ancora per il gente che ha avuto questa scuola cultural e quindi noi abbiamo un sistema che è stato impegnato con tutti tutti che non è ma non è un interno più che si 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 e quindi nonostante di questo punto, nonostante di avere un progetto che riguarda l'occupazione di persone per l'acquisizione di una mentalità e di un agire, quindi nonostante di avere una sostenibilità ambientale per fare progetto l'occupazione e una sostenibilità ambientale sia in sé dei professionisti, ...o e si è vero che le persone non si ritengono a dire il punto di passare per un senso dell'gete... ...integno è da un'gete che per il lavoro... ...che non si può farlo, ma per il lavoro, ma per i verità... ...nambi che non sono in carico perché non si può fare... ...oltre in per l'asso del lavoro... ... Roberto 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 Roberto... Qui è costo di interesse di attivare le persone che con te si guarda in giro che è un po' presente nel mondo dell'offensione. Il progetto è un programma di azioni che deve aggiungerare il filosofia, il filosofia, il filosofia, il filosofia, il filosofia e il filosofia, il filosofia e il filosofia e il filosofia e il filosofia. Il filosofia e il filosofia e il filosofia e il filosofia e la mia sciliate scatari aimaan e con la strada di un filosofia. in cui si è tutta la nostra attenzione, ma siccome, ma, i chi è rispettato quello che si è più ampio di dirà, che non si è più ampio, è un'erba di notificazione. Ora qui... per il rapporto è il momento di che l'interfascio di farlo, che è un argomentale, cioè la relazione qui è inizialmente, per quanto riguarda il servizio, come appucciare i vestitori, quindi questa è un'innovazione particolare che deve essere produciti in persone giudizioni, quindi c'è un progetto che noi abbiamo detto, un po' approcciamento e non avanti le ponte di volontari, portando un po' di produzione, un po' di piccoli, un po' di piccoli, un po' di piccoli, un po' di piccoli ma è un po' di piccoli, un po' di piccoli, l'occoli, un po' di piccoli, un po' di piccoli e il leggello della connessione, è un po' di piccoli, una quella che c'è un po' di piccoli di camminare. Come all'upia questo? può essere tutto, già da qualche page, di visionso. Progetto per il fatto che non può essere, non può essere. E poi l'arrivo di fatturare una cosa, ma poi quello che si può essere. E poi l'arrivo che si chiama Джene, non l'uomo della condizione avrò più caratteristica. Si avrò più caratteristica, e allora anche il governo dell'Italia europea.